Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo in compiere di Samsung Galaxy S5 Neo per l'unboxing prima di cominciare come sempre vi lascio ai tanti più pollicioni in su per il video, condividelo e iscrivervi intanto al canale YouTube di Esperienza Mobile anteprima abbastanza interessante, vi avviso che subito dopo l'unboxing caricherò la recensione il telefono non è ancora molto facile da trovare, eccolo qua in versione nera nella confezione troviamo manualistica, in questo caso in polacco, visto che il telefono non è in Anzia Italia però non cambia assolutamente nulla, qua abbiamo le cuffiette in IA classiche di Samsung di discreta qualità, gommini per i padiglioni e qua abbiamo l'alimentatore, vediamo un po' con l'uscita da quanto, uscita da 1,5 A quindi abbastanza buono e cavetto USB micro USB in colorazione bianca anche se il telefono è nero benissimo, quindi come ogni anno Samsung ci ripropone la versione Neo Plus insomma del telefono top di gamma dell'anno precedente quest'anno il telefono diciamo che non è perfettamente identico all'S5 ma insomma lo riprende al 99% accendiamo velocemente ripeto non dirò molto adesso che vi ho fatto vedere la confezione e il grosso lo dirò nella recensione completa che linkerò anche qua in alto abbiamo il led di notifica qua, lato sinistro bilanciere del volume tra l'altro vedete come il lato è leggermente diverso rispetto a quello dell'S5 tradizionale abbiamo qua in alto il secondo microfono, ingresso per le cuffie accensione di spavimento blocco sblocco e ingresso micro USB interessante vedere come non sia più coperta lo sportellino nonostante il telefono rimanga impermeabile quindi questo è già un bel vantaggio secondo me rispetto all'S5 fotocamera da 5 megapixel anteriore contro i due dell'S5 e dietro abbiamo ancora il flash fotocamera da 16 megapixel e il sensore per il battito cardiaco altoparlante qua in basso la cover anche prende quella dell'S5 però leggermente diversa è più simile a quella del Galaxy Alpha con i forellini diciamo più vicini c'è un po' meno l'effetto cerotto l'unica cosa che andiamo a perdere è il tasto per l'impronto digitale che comunque funzionava discretamente non era eccelso però diciamo secondo me era abbastanza inutile e altri piccoli cambiamenti a parte la fotocamera sono il processore che non è più lo snapdragon 801 ma è un exynos octa core da 1.6 giga proprietario di samsung con gpu ma di 720 quindi questo è l'unico cambiamento adesso tutto il resto ve lo dirò insomma nella recensione completa quindi per questo video era tutto noi ci vediamo nei prossimi video mi raccomando andate a vedere la recensione lasciate un like un saluto da Lorenzo per l'esperienza mobile ciao 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 ciao